Perchè l'ha fatta? Se il popolo di Rodi è ridotto in schiavitù, è perché nessuno gli ha mai mostrato come si muore per la libertà. Il Colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che in esso trovino rifugio le navi di qualsiasi paese. E per una semplice ospitalità, noi ti offriamo la metà di tutto il bottino. La metà? Il Colosso è un guardiano che impedisce l'ingresso ai conquistatori. Solo che i conquistatori sono già dentro casa. Il Colosso è un guardiano che non si muore per il nostro porto. Il Colosso è il tuo stesso palazzo. Il Colosso che hai costruito è il covo dei traditori. Pronti a rovesciare il trono, ad impadronirsi delle ricchezze di Rodi e ad imporre il dominio straniero. Il Colosso è un guardiano che ti offriamo la metà di potello. Il Colosso è un guardiano che non si muore per il nostro porto. Il Colosso è un guardiano che non si muore per il nostro porto.